Cari fratelli e sorelle, tanto amati del Signore, Pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù che vi accoglie nel suo cuore. E buongiorno da parte di Don Umberto. Diciamoli insieme, siamo rodati i Sacri Cori di Gesù, Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Dalla bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. La parola di oggi ti suggerisce una bella preghiera. Guardando dalla finestra o facendo una passeggiata, osserveremo le montagne e la loro stabilità, le nubi mosse dai venti, gli alberi e i loro frutti, gli uccellini che sfrecciano nel cielo gioiosi. Stupiti e riconoscenti diremo, grazie, oh Padre, della tua stabilità, della tua fantasia, della tua sapienza, delle tue leggi che regolano l'universo e di come provvedi a tutte le tue creature. Ti rendiamo grazie, oh Dio, per questo mondo meraviglioso che tu hai creato per noi e da ogni cosa creata, salga a te la nostra lode nella divina volontà. Adoracoli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda il fuoco, e le lacque per purificarle, benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine, che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e i defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola. Benedico per aiutarti. Benedico per difenderti. Benedico per consolarti e perdonarti. Benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima, nella tua volontà, il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrania di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima, nel tuo intelletto, il sigillo della sua sapienza. Nel nome del Spirito Santo, comunichi in prima, nella tua memoria, il sigillo del suo amore. Desinuversti tutte le forze dell'anima e del corpo. Sì ristanato ogni infermità spirituale e corporale. E' arricchita e abilita di ogni bene e virtù, sia la tua anima. E per intercessione, beata sempre legge Maria, madre regina della divina volontà, benedica a Dio ripotente il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa, e la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, parla il tuo cuore, e ti dice, anima cara, non stancarti mai di me, non stancarti, io mi assento, e poi ritorno a voi, e quando me ne vado, voi rimanete accanto a me. Non fate come certe anime, che nei momenti di arricchita, fuggono e mi abbandonano. Queste anime, non conoscono il loro Salvatore. È perché vi amo, che mi nascondo. Non devo forse provare, le mie care pecorelle? E anche se il vostro cuore, è totalmente nel buio, e la mia voce sembra muta, rifletti, Egli mi ama, e si è offerto per me. Cari fratelli, sorelle di tutti voi, pace e felicità, nella divina volontà, Piazza e sempre, Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi, e grazie di esistere, perché sei un dono di Dio. presto, e sopra, non potpickare, ma figli tuoi, ma figli tuoi, come giusto, ma figli tuoi, ma figli,